Salve da Michele Expert, buona Pasquetta a tutti quanti voi. Oggi tempo incerto, era previsto che andassi nel mio bosco o in un altro posto sul pollino, poi il tempo mi ha scoraggiato, fra qualche ora, diciamo fra un'oretta buona comincia a piovere, anche temporali, poi avevo previsto di andare a piano di sopra sul mio terrazzo a godermi un po' il sole, alla fine ho deciso di stare nell'altro terrazzo giù, che è predisposto anche con una cucina esterna, così almeno se c'è il vento e se ci sarà un acquazzone, anche un temporale, mi potrò godere un po' questo preparato, altrimenti portarlo fuori e mangiarlo pieno di polvere non avrebbe senso, visto la qualità. Questo è il nostro picellato, che mettiamo sempre come tradizione, anche le collure, molto buoni, addirittura lo utilizzo per consumarlo come pane. Una bella grigliata mista di carne, di sassiccia, capocollo, braciole, le sassicce nostre piccanti calabrese, la soppressata, un terriere, il coltello. Queste le lasagne di ieri, l'ho riscaldata nel fornetto elettrico, adesso sono pronte per essere gustate. Ancora un po' di vino rosso, nostro, vino bianco, una, diciamo anche una gazzosa, una coca cola, specialmente le frittate. La frittata con gli asparagi selvatici e quella con ricotta, con salsiccia piccante calabrese. Ancora una buona giardiniera di preparati locali, fatti in casa, vale a dire lampoccioni, malanzana a filetto, peperoncini, funchetti, potevo mettere ancora altri 20 cose, 30 cose, ma va bene così. E anche un po' di cipolletta fresca con un po' di sardella. Beh, poi si può mangiare ancora altro, io ovviamente associerò qualche cosetta con i tanti gattini che mi faranno compagnia. Questo qua è molto bello, è grigio, mi cerca sempre, non so per quale motivo è proprio preso da me. C'è un occhietto che adesso dopo devo disinfettare, perché sono quattro gattini, quindi li devo disinfettare con un po' di disinfettante, li devo pulire dopo ovviamente che mangerò. A voi tutti una grande pasquetta, laddove la possiate fare, ve la godete anche fuori, ho preferito a casa in questa occasione. Ci saranno tante occasioni in Calabria di fare anche qualche scampagnata fuori in tante altre occasioni. Siamo in Calabria, quindi possiamo sfruttare altre giornate. Vi ringrazio dell'attenzione da Michele Expert.